ciao a tutti benvenuti nella descrizione del video trovate il carta modello di questa colomba noè e la sua famiglia erano rimasti gli unici uomini buoni dio gli disse di costruire un'arca noè fece salire tutti gli animali a coppie piove 40 giorni e 40 notti sull'arca c'era cibo per tutti e si stava al sicuro noè provò a mandare fuori una colomba il diluvio era finito finito per sempre e comparve l'arcobaleno grazie a tutti grazie a tutti